Gabriele Chiurli, la regione toscana, la giunta regionale propone al Consiglio un riordino della sanità toscana, la soddisfa le linee guida di questo riordino? Questo sinceramente è un riordino solamente sulla privatizzazione della sanità toscana, avevamo già intrapreso questa strada, noi l'avevamo già denunciato da tempo perché voglio ricordare che American Corporation prendendo le azioni è già entrata all'interno dell'ospedale di Careggi, di conseguenza è solamente un ulteriore passo verso questo obiettivo che si propone questa giunta, questo governo nazionale, lo smantellamento della sanità e oggi vediamo che questo smantellamento viene portato avanti perpetrato anche all'interno della regione toscana, oltretutto tagliare 1500 posti che vengono tagliati sicuramente e ovviamente agli ospedali più piccoli che già lamentano la carenza e il bisogno di ulteriori unità di lavoratori, chiaramente è proprio in controtendenza alle esigenze dei cittadini, quindi per noi è totalmente negativo.